Buongiorno, buona domenica, benvenuti alla rassegna stampa di Udinews TV insieme con voi ogni giorno da lunedì alla domenica proprio per iniziare bene la giornata, leggere i giornali e scoprire quali sono le notizie fresche di giornata, vedere anche le situazioni del tempo, della viabilità insomma tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche questa domenica allora vediamo intanto qual è la situazione meteo per il 2 dicembre Ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di domenica 2 dicembre Sui monti cielo poco nuvoloso a variabile per velature, specie dal pomeriggio Su pianura e costa cielo in genere nuvoloso o coperto per nubi basse che a trabti potrebbero dare qualche piovigine sulla costa Venti deboli Le temperature Sulla costa 5-8 gradi di minima, 8-10 di massima In pianura 0-4 gradi di minima, 8-10 di massima A 1000 metri 2 gradi, a 2000 metri meno 1 grado Una rivederci a tutti e le previsioni meteo di domani Queste sono le previsioni del tempo per questa giornata Diamo anche uno sguardo al traffico e alla viabilità dopo un sabato difficile sulle nostre autostrade Vediamo sul sito di Info Viaggiando, che è il sito di Autovie Venete Dedicato proprio all'informazione in diretta, in tempo reale di quello che sta accadendo in autostrada Vediamo che per adesso la situazione è scorrevole Non ci sono tratti rossi che stanno a significare un assembramento di vetture Per qualche coda o per qualche incidente Vediamo, è tutto scorrevole Sia sul tratto dell'A23, sia sul tratto dell'A4 Sia in direzione Venezia, sia in direzione di Trieste Quindi per ora tutto regolare Fortunatamente poi torneremo, prima di salutarci Di nuovo a dare un'occhiata a quella che è la situazione del traffico in autostrada Vediamo anche quali sono le prime pagine di oggi Poi approfondiremo alcune notizie locali Anche con i servizi che abbiamo realizzato per le nostre numerose dirette quotidiane Cominciamo con i giornali Vediamo la prima del Corriere della Sera Con in primo piano gli scontri a Parigi e in Francia Roghi e scontri, la svolta violenta dei gilet gialli Più di 100 feriti e 270 fermati a Parigi Un palazzo è stato assaltato e dato alle fiamme Auto rovesciate e bruciate, negozi e banche presi d'assalto Una giornata di violenza a Parigi Dove la terza manifestazione dei gilet gialli Il movimento nato per protestare contro il caro carburante È degenerato in guerriglia urbana La polizia ha risposto fin dalla mattina Oltre 100 feriti e 270 persone arrestate Le parole di Macron Invitato da tutti i manifestanti ad andarsene Vogliono solamente il caos E qui vediamo proprio in uno scatto Un manifestante che lancia oggetti alla polizia Mentre una macchina è in fiamme Durante la manifestazione di protesta L'analisi però politica dice che ha fatto diversi errori Macron e che adesso il suo è un fragile futuro Come titola Massimo Nava Qualcuno parlerà di nuovo 68 francese Ma evidentemente le caratteristiche sono molto differenti Ancora è la politica estera In centropagina con Dazzi e Clima Trump non cede Dialogo tra le premiere e Juncker sulla manovra Taglia le pensioni oltre i 90.000 euro A noi e qui si parla ovviamente di vicende italiane Ma al G20 sparisce la condanna del protezionismo Mentre nel frattempo Conte a questo punto Dichiara di voler lavorare con l'Unione Europea Cala il sipario sul G20 di Buenos Aires Donald Trump parla di successo Passa la sua linea di non condanna del protezionismo Sull'ambiente non fa retromarce Con Putin solamente un veloce saluto Al G20 di Buenos Aires il premier Giuseppe Conte Ha però incontrato il presidente della Commissione Europea L'obiettivo è evitare la procedura di infrazione Da parte dell'Unione Europea E poi si parla ancora di Stati Uniti Con la morte di George Bush Senior A 94 anni Chiuse con l'era della guerra fredda E guidò il primo conflitto nel Golfo Vediamo anche l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia La Cina senza confini Il potere dei soldi Prende spunto dal noto problema Il problema della casa di moda italiana Dolce Gabbana Che ha dovuto chiedere scusa tramite un video Per una pubblicità ritenuta offensiva E appunto si dice che in seguito alla globalizzazione Ci sono degli esiti imprevisti sul potere economico della Cina In Italia invece gli imprenditori sono sempre più soli 51.000 aziende chiuse in tre mesi Dice Dario Di Vico Questa è l'inchiesta di oggi Il paradosso dell'Italia è un paese con tante aziende Che non conosce il loro peso nell'economia Oggi l'iniziativa è più difficile di un tempo Non è più centrale nel contratto di governo In tre mesi si sono chiuse più di 51.000 aziende E l'inchiesta rispetto al 2016 Rispetto al lavoro che sognano i giovani Dice questo Preferisco un impiego pubblico Piuttosto che fare l'imprenditore Questa è l'inchiesta sulla fotografia economica del paese Poi ancora ieri sera Ci sono state delle scritte offensive contro Shirea E i morti dell'Aisle a Firenze Shock diversi Diversi commenti molto negativi Fra cui quello di Massimiliano Allegri Vanno arrestati E poi in taglio più alto La morte del popolare attore Ennio Fantastichini L'attore dal volto sincero È morto a Napoli Aveva 63 anni È stato stroncato da un grave male Andiamo a vedere anche la prima pagina della Repubblica Con sempre al centro le trattative Fra Europa e Conte 4 miliardi e mezzo Per evitare l'infrazione Dice la Repubblica nel titolo di apertura Trattativa al G20 Tra il Premier e il Presidente della Commissione Europea Slitta invece l'accordo Fra 5 Stelle e Lega Si va verso la fiducia Fiducia sulla legge di bilancio Un vertice trumpizzato invece quello del G20 Dice Federico Rampini Che però ha visto poi in chiusura Anche la firma tra Trump e la Cina Per non aumentare ancora i dazzi Quindi si ferma la guerra tra Cina e America Sui dazzi protezionistici Guerrigli antimacroni, gilet gialli Bruciano Parigi Esplode la rabbia Anche qui nella foto di centro pagina C'è una bandiera francese Con i fuochi causati dagli scontri di ieri Poi ancora l'ex Presidente americano L'ultimo leader della grande vecchia America Dice Zucconi E il caso italiano Dall'Emilia alla Lombardia Lite sull'ambulanza senza il medico Vediamo anche le idee nella spalla Con i media e il cittadino ibrido Anche in Italia avanza un cittadino ibrido Coniata per commentare i cambiamenti Del sistema della comunicazione Dove le ricorse ai new media Non esclude i media tradizionali Poi uno scatto con una foto di una vecchia Istanbul Così ho scoperto i segreti di Oran Pamuk Lo scrittore molto famoso E c'è lo scatto di Ara Güler Che è morto il 17 ottobre Ed è stato il più grande fotografo dell'Istanbul moderna Era nato nel 1928 Poi ancora il lutto nel cinema Scompara a 63 anni Fantastichini Attore a tutto tonto Un duro di talento Da mine vaganti a ferie d'agosto Stroncato da una leucemia Dopo un breve ricovero L'editoriale di Scalfari Oggi l'alchimia di Cagliostro Che avvelena la sinistra Berlusconi vorrebbe allearsi con Renzi Avrebbe già parlato con lui I due si somigliano E hanno vissuto un'analoga storia Il bisogno di riconquistare un potere perduto Questo l'incipit del pezzo Vediamo anche il Sole 24 Ore Che in tempi di manovra finanziaria È stato parecchio critico negli ultimi giorni E infatti dice Allarme recessione delle imprese Il governo si divide sul deficit al 2% Legge di bilancio al centro delle polemiche La replica del Premier Una manovra studiata per la ripresa Incontro fra Conte e Juncker Intesa più vicina con l'Unione Europea Ma nell'esecutivo non c'è ancora accordo Sull'obiettivo di disavanzo Per l'anno prossimo Infatti l'obiettivo di portare il deficit Verso il 2% rispetto al 2,4% iniziale Non ha ancora trovato l'accordo di governo Poi la guerra delle proteine Nella foto di centropagina di quest'oggi del Sole Business alimentare, squilibri europei Carne o legumi La guerra delle proteine Tra poco più di 30 anni Sulla Terra saremo quasi 10 miliardi Il 30% in più di oggi Per sfamarci si bisognerà produrre Il 60% di cibo in più Servono miliardi di nuove proteine Dove le prenderemo C'è chi scommette sulle farine di insetti Chi sull'hamburger è impossibile Anche le proteine vegetali L'impatto dell'allevamento rispetto a quello Della coltivazione di legumi In fatto di sostenibilità Infatti è completamente diverso Ed è sbilanciato a favore dei secondi Nel senso che i legumi Come impatto ambientale Rispetto all'allevamento Che produce molte scorie E inquina molto di più È nettamente differente Poi la stangata sugli NPL Il 50% della torta I big dei fondi esteri Si parla di sofferenze bancarie Un grande affare L'acquisto dei crediti deteriorati Delle banche italiane Negli ultimi 5 anni I grandi investitori esteri Hanno acquistato a sconto Circa la metà Di 157 miliardi Di crediti problematici italiani Oltre ai colossi americani Anche altri gruppi Ben Capital Intrum Divisioni specializzate Di banche d'affari E quindi Un grande shopping internazionale Rispetto ai nostri problemi bancari Negli ultimi anni Che hanno causato Molti disastri In Italia E non solo Eurotech Lo vediamo in taglio basso In prima pagina Oggi Sul Sole 24 ore La svolta Il nano PC Al servizio Dell'internet Delle cose Questa È l'idea Che è presente Oggi Sul sole In taglio alto Si parla anche Di Romano Prodi C'è Un Articolo Con una sua intervista Senza mondo globalizzato Il made in Italy Può crollare A tavola Con Prodi Ex premier Ed ex presidente Della commissione europea Vediamo ora anche La prima pagina Del fatto quotidiano Si parla ovviamente Sempre di politica Nel titolo di apertura Il nuovo PD Chiude i 5 stelle Guarda a destra Come Renzi Zingaretti Minniti e Martina Dicono mai Con il movimento 5 stella 5 stelle E boccia A quel punto Si interroga Volete Salvini I tre candidati principali Alla segreteria Detta nella stessa linea Nuova maggioranza In caso di crisi di governo Con Berlusconi E lega Questa almeno è L'idea Della nuova dirigenza Del PD Tra ovviamente L'ironia Del fatto Quotidiano Poi Licenziamenti Beffa Di Fudora Per 2000 rider L'app tedesca Ha venduto a globo Le e-mail E le farse promesse Ieri protesta Internazionale Dei fattorini Poi un reportage Dal Guatemala L'olio di palma Gli schiavi sfruttati Da Cichite e company Costretti a fuggire Al nord Poi ancora La storia Tra l'altro Articolo firmato Da Alessandro Di Battista Poi la storia Pure il vino Dal fumo targato Totori Ina Al caffè I marchi criminali E poi no Al caro carburante Violenti Oscuro nei gile gialli E Parigi Diventa Un inferno Questa è la prima Del fatto Adesso vediamo Libero giornale E poi andiamo Al manifesto I Novax Sono in crisi Dice Libero Tutti si vaccinano Medici di famiglia In festa Forte aumento Di persone Che si vogliono Proteggere Dai virus Al punto Che molte Asle Sono senza siero Le case farmaceutiche Hanno i magazzini Vuoti Quindi c'è Stato Una C'è stata Secondo Libero Una risposta A chi Invece Appunto Continua ad avere Dei dubbi Sul Valore Del vaccino Poi Anche Il problema È la crisi Dei 5 stelle Nelle foto Di centropagina Di Maio È in difficoltà E poi I balconi Non portano Fortuna Quelli da cui Festeggiavano Proprio i membri Del Movimento 5 stelle Ha un Problema Strutturale Quindi Si fa questo Ardito Parallelismo Sulla situazione Del Movimento 5 stelle E anche Sulle cedimenti Strutturali Dei palazzi Da cui avevano Recentemente Festeggiato Il giornale Invece dice Ritirata sui conti Indietro tutta Il governo Cambierà la manovra Evitare l'infrazione Dell'Unione Europea Altro che reddito Di cittadinanza Sarà solo una mancetta Allarme invece Per le imprese Sono più di 6 miliardi Le tasse In più Come valore Quindi contro ordine Cittadini Con l'UE bisogna Trattare Lo dicono chiaramente Di Maio e Conte Che ieri hanno annunciato L'apertura di un tavolo Con Bruxelles Lasciandosi sfuggire Che evitare La procedura Di infrazione È l'interesse primario Tagliare i provvedimenti Di bandiera Come il reddito Di cittadinanza Che potrebbe passare Da 780 euro A persona A 500 euro A famiglia E poi Conti in tasca Le spese Dei deputati 5 stelle Fra gli odiati Giornali e i cellulari Ci sono anche questi Nelle spese grilline Che vengono portate Poi A scalare Fra quelle che sono Le spese Di professione Poi Bush Il grande americano Che vinceva Senza infierire È morto Il presidente della guerra In Iraq E poi le leggi Proposte dal movimento 5 stelle Eutanasia E canne libere Mentre la Lega Difende sicurezza E famiglia Poi andiamo a vedere Anche la prima pagina Del manifesto Con Questo scatto E la didascalia A corredo Senza tetto Per legge Migliaia In piazza Milano Per dire sì All'accoglienza E no Ai nuovi centri Per i rimpatri A Roma Tante associazioni In corteo Costruiamo Una alleanza Sociale L'appello Anche a Mattarella Non promulghi La legge Salvini La rabbia dei gilet gialli Incendia invece Parigi Più di cento feriti E cento Arresti E poi ci sono anche Proteste in Germania A Berlino A Colonia Per ricordare Alla grande coalizione Gli impegni assunti Tre anni fa Alla conferenza Sul clima Ovvero No al carbone Più di 35.000 persone Ieri in piazza In Germania La vigilia Della COP24 Sull'ambiente dell'ONU Che si apre domani A Katowice In Polonia Come spesso capita Sul manifesto Tante attenzioni A quello che succede Intorno a noi Anche in Messico In Honduras Poi invece In taglio più basso Si parla di politica italiana De Magistris è partito Ma non per l'Europa Il sindaco di Napoli Lancia a Roma La nuova coalizione Dei popoli Con un messaggio Di Podemos E l'incoraggiamento Di sinistra italiana Dobbiamo darci un simbolo E all'Europe Ci saremo Solo se la casa Avrà fondamenta Queste almeno Le parole di De Magistris E poi A un passo dalla resa Di Maio dice Senza tradire Salvini sarebbe Pronto a cedere Rimodulando quota 100 Di Maio invece Prova a resistere Ma intanto La presentazione Degli emendamenti Del governo È stata Ancora Rimandata Facciamo un salto Adesso lasciamo I quotidiani nazionali Andiamo a vedere Invece le notizie Locali Andiamo a vedere I nostri quotidiani Cominciamo proprio Con Il Gazzettino Che in apertura Ovviamente Parla di notizie nazionali Quindi con Il caos Sulla manovra E il cedimento Sul deficit Al 2% Ma servono ancora Un miliardo E mezzo Di euro Di Maio Ascolta Ma non convince Gli imprenditori C'è stato Un incontro Con le categorie Atreviso E sull'autonomia Cancella i dubbi Si farà Prova a ricucire Lo strappo Di Maio Con gli imprenditori Del Veneto Non è giusto Farci passare Come Antimpresa Hanno detto I vertici Delle categorie Hanno apprezzato La disponibilità Allo sconto Apprezzato La disponibilità All'ascolto Delle vicepremiere Ma pur avendo chiarito Alcuni punti E ottenuto apertura Permangono Criticità di fondo Sull'impostazione Della manovra Questa è stato Il parere Degli imprenditori Del Veneto Con Di Maio L'apertura Del Friuli Invece dice Il posto fisso Non è più Un sogno Salgono le assunzioni A tempo indeterminato Fra luglio E settembre I primi effetti Del decreto Dignità Aumentano infatti Le assunzioni Secondo Uno studio Dell'IRES E questo Argomento Questa bella Positiva Novità Questo studio È stato anche Al centro Di un servizio Che abbiamo Realizzato E che appunto Parla di questa Crescita Nel settore Privato Dei nuovi rapporti Di lavoro Allora Approfondiamolo insieme Il decreto Dignità Fa crescere In Friuli Venezia Giulia Le assunzioni A tempo indeterminato Nei primi nove mesi Del 2000 2018 L'incremento È stato infatti Del 15,4% Lo rivela Un'indagine IRS FVG Sulla base Di dati IMSS I nuovi rapporti A tempo indeterminato Sono stati Quasi 13.800 Di cui 1.046 Per under 35 Nel confronto Con le altre regioni italiane La nostra La nostra La nostra risulta Risulta quindi Il quarto posto Per crescita Delle nuove assunzioni Dopo Veneto Trentino Alto Adige E Umbria L'approvazione A luglio Del cosiddetto Decreto Dignità Ha introdotto Importanti Modifiche Le nuove assunzioni Hanno riguardato Soprattutto Lavoratori maschi Italiani In aziende Fino a 15 Dipendenti In particolare Del manifatturiero Quindi buone notizie Per la nostra Regione Adesso continuiamo A vedere La prima pagina Del gazzettino In taglio alto Boschi sperimentali Per resistere Al clima pazzo L'esperto Suggerisce Di pensare A soluzioni Al passo Con il clima Ieri c'è stato L'iniziativa Molto interessante Della vendita Degli alberi Spezzati Della Carnia Per In cambio Di una donazione Per le terre colpite Dal maltempo E appunto La possibilità È quella Di poter creare Nuove foreste Sperimentali In Carnia In grado Di sostenere I mutamenti Climatici Poi vediamo Anche in taglio centrale Proprio A riguardo Un data di maltempo Che ha colpito La Carnia A Timau Dopo un intervento In tempi record Il ponte È stato ricostruito Il ponte Bailey In tempi record È stato riaperto Fa sperare Appunto Questo territorio Che è stato Colpito gravemente Dall'ondata di Maltempo E per gli ski pass È stata prolungata La prevendita Tutto pronto Per l'apertura ufficiale Della stagione Dei policistici Della regione Che prenderà Il via Il prossimo Fine settimana Promo Turismo Ha deciso di prolungare La prevendita Degli ski pass Stagionali Cartaneve Fino a giovedì 6 dicembre E oltre ai vantaggi Economici Della prevendita Perché prevedono Un notevole sconto Per chi prende Lo ski pass Regionale C'è anche una gradita E poi c'è anche una gradita sorpresa Per gli amanti Un carnet gratuito Per l'utilizzo Degli impianti Di risalita Nei mesi estivi Del 2019 E poi ancora E poi si parla Dell'ospedale Con l'accompagnamento Offerto dal comune di Udine E poi anche un grande concerto Il 23 di dicembre Andiamo allora insieme All'interno del giornale Per sfogliare Le notizie Perché ci sono anche notizie Di cronaca Quest'oggi Si sbarazza della droga Ma finisce davanti al militare Un udinese E' stato arrestato Allora Vediamo tutte le notizie Di cronaca Che troverete poi oggi Sui quotidiani ODR Un cadavere all'interno Di un'auto Sui fondali di Muggia E' stato recuperato Questa mattina Dai vigili del fuoco Intervenuti con una gruna Al porticciolo turistico Del piccolo centro Il cadavere sarebbe Quello di un uomo Di 81 anni Di Muggia Scomparso il 5 gennaio scorso Dalla sua abitazione Sulle cui tracce Erano i carabinieri L'auto Una Renault Clio rossa Parzialmente insabbiata Era stata notata Sui fondali ieri Dai sommozzatori Dei vigili del fuoco Impegnati in un servizio Di controllo Solo riportandola in superficie Si è avuta conferma Che all'interno C'era il cadavere dell'uomo I carabinieri Del nucleo tutela Patrimonio culturale Di Venezia Hanno recuperato Il dipinto Raffigurante San Giovannino Attribuito ad un pittore Del XVII-XVIII secolo Che era stato posto In vendita Presso una casa Adatte genovese Come coppia Tratta da un originale Del pittore spagnolo Bartolomeo Estaval Murillo Conservata al Museo Del Prado di Madrid L'opera rubata Era di proprietà Di un facoltoso Collezionista Pordenonese Deceduto Che aveva denunciato Il furto di vari dipinti Costituenti l'arredo Della cappella privata Nessa alla propria Villa settecentesca Per la ricettazione Del dipinto Il cui valore È di circa 80.000 euro Sono state segnalate All'autorità giudiziaria Tre persone I carabinieri Della stazione di Udine Est Hanno deferito In stato di libertà Per l'ipotesi Di reato Di maltrattamenti in famiglia Ed atti persecutori Un trentottenne del posto Il soggetto Avrebbe tenuto Per diversi anni Un comportamento Vessatorio Nei confronti Della moglie Continuando Nonostante la separazione Nei suoi confronti È stata richiesta L'emissione Di una misura cautelare I carabinieri Della stazione di Fagagna Hanno dato esecuzione Ad un ordine di carcerazione Emesso dal tribunale di Udine Nei confronti Di un 43enne Di etnia Rom L'uomo è stato rintracciato All'interno di una roulotte Parcheggiata in agro Tra San Vito di Fagagna E Plasencis Il soggetto È stato associato Alla casa circondariale Di Udine Ove dovrà scontare La pena di mesi 3 Per il reato Di oltraggio Pubblico ufficiale Recidiva Si è conclusa L'operazione Stazioni sicure Una giornata Di controlli Straordinari Effettuati Su tutto il territorio Nazionale Dalla Polizia Ferroviaria Per aumentare I livelli di sicurezza Nelle stazioni ferroviarie Anche in vista Dell'imminente avvio Dei maggiori spostamenti In vista Del periodo natalizio Dei 1445 operatori Impegnati a livello nazionale 81 operatori Sono stati impiegati In regione Presso 502 stazioni In Friuli Venezia Giulia Hanno controllato 21 scali ferroviari Ed ispezionato Numerosi bagagli Sono state identificate 90 persone Di cui due Sono state indagate In stato di libertà E sono state elevate Alcune sanzioni amministrative Nella provincia di Gorizia L'attenzione degli agenti Si è concentrata Sulla stazione Del capoluogo Isontino Punto di arrivo E partenza Di un notevole flusso pendolare Sul nodo Di Monfalcone Importante punto di transito Del traffico Proveniente da Gorizia Trieste E dalla ex Jugoslavia Diamo uno sguardo Anche alle altre notizie Di quest'oggi In regione Il ritorno alle province Ha scatenato la furia Della centrosinistra Un costoso poltronificio Per gli amici Dicono Panontini e Serracchiani Che difendono la cancellazione E attaccano Annullati i risparmi Per fare un salto Nello buio E l'Anci Nicchia Sul Controriforma L'ex riforma Di centrosinistra Diceva che il risparmio Complessivo Dell'abolizione Delle province In regione È stato Di 35 milioni Di euro Di questi 15 grazie alla chiusura Delle province Di Trieste Gorizia Pordenone E di 20 Per quella Di Udine Grazie al taglio Della spesa Per il personale L'addio Quattro anni fa Fu il primo In Italia Oltre 35 milioni Di risparmi Dicono ora Panontini E Serracchiani Quello di adesso Della giunta Fedriga È invece Un salto Nel buio A fronte della volontà Di abolire Alle Uti Non c'è nessuna idea Alternativa E una giunta Che annuncia Di fare debito E accantona 23 milioni Perenti Che neppure Esistono È sconcertante Trascurando il fatto Che la riforma Delle Uti Aveva determinato Sostanziosi risparmi Per poi Rinvestirli Negli enti Locali Queste Le critiche Di Serracchiani E Panontini Intanto Stoppa i soldi Per le fusioni Tra i comuni Roberti L'assessore Agli enti locali Dice Sono processi Che devono nascere Dalla popolazione Non dall'alto Come si faceva In passato E oggi A Gorizia Al congresso Delle PD Che seguiremo Sciaurli Sarà proclamato Il leader Regionale Delle PD Quindi Diventerà Segretario regionale Mentre invece Coppola Sarà Il vice Andiamo a vedere Anche Che cosa si dice Nelle pagine Successive Sempre per Le notizie Sul messaggero Veneto Parte il processo Per il crack Di Banca Popolare Di Vicenza 7600 parti civili Zone in assente Davanti a Palazzo di Giustizia 500 risparmiatori Tutti contro L'ex banchiere Anche il comune Si costituisce Poi andiamo a vedere Le pagine dedicate A Udine Con In primo piano L'ascensore Partirà da Giardin Grande Il sindaco Dice I lavori Partiranno Il prossimo anno Il comune Accelera Per l'impianto Di risalita Verso il monumento Previsto anche Un restauro Per le sale Interne Quindi il collegamento Ci sarà Dopo anni Che se ne parla Però Non sarà Nella zona Della biblioteca Quindi verso Via Mercato Vecchio Ma sarà Dal lato Di piazza Primo maggio Sarà realizzata Una sorta Di cremagliera Che dall'area Della pizzeria Concordia Consentirà Di arrivare Al castello Il comune Chiederà Un milione Di euro Per i lavori Che potrebbero Partire Già Il prossimo Anno E la facciata Del maniero Potrebbe vedere Una rivisitazione Perché Danieli Si è impegnata A effettuare Dei lavori Di riqualifica Non ci limiteremo Alla tinteggiatura Sistemeremo Anche La torretta E le scale D'accesso Questa L'idea Appunto Per il castello Di Udine Poi si parla Anche di Chiavris Di questo Quartiere Un'isola felice Con servizi Verde Mancano Solamente Un po' Di parcheggi Si legge Poi ancora Vediamo Le pagine Della cronaca Con la clonazione Della carta di credito E la sparizione Conseguente Di 7000 euro Truffato Un professionista E le blitz Due settimane fa Traverso un cellulare L'uomo si è rivolto Alla società Che gestisce I servizi Per conto Della visa Poi cerimonie Visite Dai vigili del fuoco Per la giornata Dedicata a Santa Barbara Tornerà Anche Ovviamente La festa Per la patrona Del corpo Dei vigili Martedì Nella sede Di via Popone Ci saranno Diversi Appuntamenti Poi vediamo Anche la storia Della città Da scoprire In centinaia Di foto D'autore Dall'archivio Brisighelli Un libro Con le immagini Più belle Di oltre Un secolo Un volume Edito Da Gaspari Sui cambiamenti Del novecento In Friuli E qui tanti scatti Alcuni anche Molto famosi Della nostra Città E poi Sempre Proseguendo Sulle pagine Delle messaggero Veneto L'appello Di questo giovane Residente a Udine Che scrive Alla commissione Territoriale Aiutate Quei quattro ragazzi Africani Trovarono il mio portafoglio L'hanno restituito L'appello Delle giovane Meritano L'accoglienza E qui appunto L'incontro Con la stretta di mano Fra i quattro giovani Africani Che restituirono Il portafoglio Al ragazzo Friulano Che adesso Si fa portatore Di un messaggio E oggi Nella staffetta Dell'Andos Quindi delle donne Operate al seno Correrà anche Il fratello Di Nadia Orlando Qui vediamo Uno scatto Che ritrae proprio La presidente Dell'Andos Insieme ai genitori Di Nadia Orlando E qui uno scatto Proprio di Nadia Con il fratello Ieri è cominciata La staffetta Di Teleton Tantissime persone Presenti Come sempre Perché ovviamente È forte Il sentimento Di solidarietà Del Friuli E sempre di più I numeri di Teleton Anno dopo anno Alice Mattelloni È andata a fare Un po' di interviste Fra la gente Per capire Qual è lo spirito Di questa iniziativa Vediamo Ti chiedo Ti chiedo cosa rappresenta Per te Teleton E se è la prima volta Che corri No Sono diversi anni Che corro Sarà penso Il decimo anno Divertimento Compagnia Far festa Dopo la corsa Tutto insomma Ovviamente Prima di tutto questo C'è lo scopo benefico Ovviamente Ovviamente Sempre Anzi Io sostengo anche Conquistando Escalones Potete vedere laggiù Il cartellone Una mia amica Soffre di distrofia muscolare Quindi corro anche per lei Correre con Teleton Perché l'obiettivo È finalizzato Ad aiutare Chi ha più bisogno In questo momento È correre Perché mi piace Camminare E fa parte Del mio stile di vita Fare moto Per star bene Correre fa bene Per se stessi Fa stare bene Con se stessi Quindi fa stare bene Con gli altri E soprattutto Un motivo in più Quando fa del bene Anche agli altri Come in questo caso Per solidarietà Sicuramente È un valore aggiunto Quindi ci fa che c'è Beh Lo dico da ex studente Del Malignani In questo caso Che comunque La partecipazione Della scuola All'iniziativa sportiva Fa sì Che la gente Possa capire Come lo sport È ancora importante Al giorno d'oggi Soprattutto Nell'insegnamento È un momento Di condivisione È un momento Per fare qualcosa Di buono Al di là Del nostro lavoro Che insomma Fa parte Sempre Dell'ambito sanitario Esatto Quanto è importante L'attività fisica In questo caso La corsa La camminata Uno stile di vita sano Importantissimo Basterebbe Mezz'ora di camminata Al giorno Per Eliminare Certi fattori Di rischio Che purtroppo Nel mondo di oggi Sono all'ordine del giorno Corrono le mamme Corrono i papà Corrono le maestre Corrono gli ex allievi Tutti accettano immediatamente E finiamo Con uno sguardo Sulla cronaca Della provincia Magnano in riviera L'ex presidente Della Proloco È morto Dieci giorni Dopo la caduta Un pensato Di settant'anni Era caduto A casa della figlia Era scivolato Da una scala Dopo dieci giorni Purtroppo Non ce l'ha fatta Malore fatale Invece mentre È alla guida È morto Un ex ferroviere Di Cornapo È finito fuoristrada Ieri sera Nel tratto Che collega Taipana A Lusevera Poi ancora La cronaca Sempre dalla provincia Con la baruffa Alla barra di Codroipo Non gli servono alcolici Pugno al titolare E sedie per aria Un marocchino Denunciato dopo Il parapiglia Causato al Miani Di Codroipo Era arrivato Già ubriaco La dipendente Dice Mai vista Una reazione Del genere Anche dalla Zona delle Codroipese Non arrivano Belle notizie Al nido No Ai bambolotti Con la pelle scura La maggioranza Corregge il regolamento Sull'uso dei giocattoli Tolto ogni riferimento Alle diverse culture Insorge Il PD L'opposizione dice Odioso l'atteggiamento Della maggioranza Il sindaco però Respinge Le accuse Poi ancora Premariacco Roberto Trentini Il sindaco Difende La zurra calcio E dice Le offese razziste All'arbitro siriano Sono arrivate Da un unico Spettatore Un fatto Increscioso Dice il sindaco Ma minimizza In questa società Ci sono atleti Di ogni Nazionalità Con questo noi ci fermiamo Una piccola pausa pubblicitaria Poi tutte le notizie Sportive Ovviamente si parlerà Di Udinese Fra poco Dice il sindaco Dice il sindaco Dice il sindaco Dice il sindaco